Buongiorno, oggi è sabato, ci troviamo al nuovo di Via Olimpia di Castelfrentano per il terzo memorial di calcio giovanile Massimo Scalinci. Oggi è la terza giornata, la penultima, domani terminano, questa mattinata è dedicata ai pulcini, da questo lato c'è la Virtus Castelfrentano con la classica divisa giallorossa, dall'altra parte c'è il Mariotano, qua c'è la Virtus Lanciano con la classica maglia rossonera e da quest'altro lato c'è il Mariotano, maglia bianco-rossa. Fra pochi minuti comincerà la gara, c'è il cerimoniale, il cerimoniale di apertura della giornata come è stato fatto nella prima giornata e ieri mattina, il pubblico è discreto per quest'orario. ... alla realizzazione del terzo memorial Massimo Scalinci. Blitz, autonoleggio...